Sei stanco di rimanere intrappolato nella gabbia della paura? Vuoi scoprire come superare il nemico numero uno che ti trattiene dal raggiungere i tuoi sogni? Oggi affronteremo un argomento che cambierà la tua vita, come superare la paura del fallimento e perseguire i tuoi sogni. Preparati a liberarti dalle catene del dubbio e a scoprire strategie potenti per sfidare te stesso, superare le tue paure e intraprendere un viaggio straordinario verso il successo. Comprendere la paura del fallimento. Per prima cosa, è importante capire da dove nasce la paura del fallimento. Spesso si sviluppa da esperienze passate negative o da pressioni sociali. Ma ricorda che il fallimento fa parte del percorso verso il successo e può insegnarci preziose lezioni. Il trucco sta nel cambiare il modo in cui percepiamo il fallimento e utilizzarlo come un'opportunità di crescita. Affrontare le paure e i dubbi. Affrontare le nostre paure e i dubbi è essenziale per superare la paura del fallimento. Chiediti quali sono le tue paure più profonde riguardo al perseguimento dei tuoi sogni. Identifica le convinzioni limitanti che ti trattengono e sostituiscile con affermazioni positive. Ricorda che sei più forte di quanto pensi e che puoi superare qualsiasi ostacolo. Stabilire obiettivi realistici. Un passo importante per superare la paura del fallimento è stabilire obiettivi realistici. Dividere i tuoi sogni in piccoli passi e obiettivi specifici ti renderà il percorso più gestibile e ti aiuterà a mantenere la motivazione. Inoltre, ricorda di celebrare ogni piccolo progresso lungo il cammino. Ciò ti darà fiducia e ti incoraggerà a continuare. Prepararsi all'incertezza. L'incertezza è un compagno costante lungo il percorso verso il successo. Preparati ad affrontare l'incertezza e l'imprevedibilità che possono accompagnare il tuo viaggio. Accetta che ci saranno momenti difficili e che potresti incontrare fallimenti lungo la strada. Ma ricorda che ogni ostacolo può essere superato, e ogni fallimento può portare a una nuova opportunità. Persistere e adattarsi. La perseveranza è fondamentale nel superare la paura del fallimento. Non arrenderti di fronte alle sfide, ma cerca di imparare dagli errori e adattarti alle circostanze. Mantieni la tua visione chiara e fai regolarmente una revisione dei tuoi obiettivi. Se qualcosa non funziona come previsto, non temere di apportare modifiche e adattamenti al tuo piano. La flessibilità è una componente essenziale per superare le sfide e raggiungere il successo. Trovare supporto e ispirazione. Nessuno può affrontare tutto da solo. Cerca il supporto di persone positive e ispiratrici che ti incoraggiano nel tuo percorso. Trova una community di persone che condividono gli stessi obiettivi o cerca un mentore che abbia già raggiunto ciò che desideri. Rimanere circondati da persone che credono in te e nelle tue capacità sarà un grande stimolo per superare la paura del fallimento. Affrontare il fallimento e imparare dalle esperienze. Il fallimento non è la fine del mondo. Accogli i fallimenti come opportunità di apprendimento. Analizza ciò che hai imparato da ogni esperienza fallimentare e utilizzalo per migliorare te stesso e le tue strategie. Ricorda che i fallimenti possono portare a risultati ancora migliori se li affronti con una mentalità di apprendimento. Superare la paura del fallimento richiede tempo e sforzo, ma è un percorso che ne vale la pena. Ricorda di rimanere fiducioso, di prenderti cura di te stesso e di mantenere sempre viva la tua passione. Seguire i tuoi sogni richiede coraggio, ma quando superi la paura del fallimento, puoi aprire la porta a un futuro pieno di successo e realizzazione. Non lasciare che la paura ti trattiene, sii audace e vai avanti. Sono sicuro che raggiungerai grandi traguardi. Grazie mille per aver guardato il video. Se hai trovato utili i consigli condivisi, lascia un like, condividi il video con altre persone che potrebbero beneficiarne e iscriviti al canale. Insieme, possiamo superare le nostre paure e perseguire i nostri sogni. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!